il ultimo torno a ferro si guarda tomasini italiano contro bortolani quindi smacch e caro italiano che dietro la testa va a servire guadwin deve prendere canestro adesso con una grande schiacciata di talmeida la figura il primo tempo v6 ci poma sul copericelente spiacciando il tratto viva Fidelotto Roderick cambia mano tira sulla testa di Santiangeli ma arriva Sims in aiuto e cancella il tiro di Roderick due secondi un secondo amici la disperazione del tiro a segno amici abbiamo l'ultima palla Packer la vorrebbe per andare a fare canestro Frandin va dentro Packer una follia ma va a realizzare con 5 secondi dalla fine lei riesce a darla in qualche modo Lucarelli la lay-off per l'inchio da David Paz un grandissimo canestro Jalen Cannon e a 30 secondi dalla fine è un possesso di vitale importanza per Agrigento con Bell che va con il palleggio arresto e tiro e buca la retina serve solo un canestro da 3 Pepper prova a costruirselo lo mette lo mette lo mette il schiacciato per T-Rod mamma mia che giocata che giocata da parte di Roderick che